Ciao, sono Federico, vengo da Milano, ho 18 anni, direbbero in X. Ho girato un po' di parking, sia in Italia che in Europa, in Francia, in Spagna, in Svizzera, così, sempre con tanti amici, ho conosciuto tante persone, tanti bravi rider, tanta bella l'anno scorso a giugno, fortunatamente ho preso la mia prima batta seria, però da questa volta qui ho capito che o smetti, oppure continui, vai avanti e diventi sempre più forte, sei un desiderio, sei un sogno, devi seguirlo e se ci credi ti metti tutta la testa, così riuscirai davvero. Il mio nome è Vanya. L'unica cosa che mi dispiace è che terminava la gravidanza, perché per me veramente era un periodo bellissimo, non avrei mai detto. L'esperienza era positivissima, meno male, fino ad ora tutto è andato molto bene. Non vediamo l'ora di abbracciare il nostro giovanino, Giovanni si chiamerà. Bisognerà concentrarsi, respirare bene e vedere come proseguirà il parto. Mi chiamo Carlo Scandobelli, ho 70 anni, interpretando questo spot televisivo ho rivissuto quello che ho dovuto passare agli anni passati, la separazione, il divorzio, dover mantenere il figlio, i corsi all'università. Pertanto è stato come riviverevo il passato che ormai pensavo al passato. Grazie a tutti. Grazie a tutti.